Giuseppe Occhiati, il funzionario dell'ufficio anagrafe di Camerota, accusato di aver intascato una mazzetta in cambio di una carta d'identità, da ieri pomeriggio è tornato nella sua abitazione. I giudici del Tribunale di Vallo della Lucania, davanti a cui è comparso nell'ambito del processo per direttissima, hanno convalidato l'arresto e gli hanno mutato la misura nei domiciliari per il rischio di reiterazione del reato. Dopo due giorni di carcere, dunque, Occhiati è tornato a casa in attesa che a settembre si tenga la prima udienza del processo. Dinanzi ai giudici, la versione da lui proposta è che i soldi ricevuti dalla signora rumena nel bar dove poi è avvenuto l'arresto in flagrante non erano una mazzetta ma un regalo per la prima comunione della figlia. Le indagini però continuano per cercare di capire se quello avvenuto nel bar di Marina sia stato un caso isolato o meno. Gli inquirenti hanno iniziato a sentire alcune persone e a controllare altre pratiche seguite dal funzionario, in particolare quelle relative a cittadini stranieri. La vicenda che ha portato in carcere Occhiati si è consumata mercoledì scorso quando l'uomo ha incontrato la signora di origine rumene a cui aveva promesso il rilascio del documento di identità in cambio di 1000 euro e ha partecipato allo scambio sotto gli occhi dei carabinieri della stazione di Camerota agli ordini del maresciallo Francesco Carelli a cui la donna aveva denunciato il fatto. Intanto per ciò che riguarda l'altra inchiesta su corruzione e appalti che ha travolto il comune di Camerota, per martedì sono previsti nuovi interrogatori nei confronti degli indagati non raggiunti da misure cautelari che sarebbero altri professionisti e persone che comunque gravitavano attorno al comune per motivi politici o amministrativi tra il 2012 e il 2017. Si attendono inoltre a breve buone nuove per l'architetto Antonietta Coraggio, coinvolta nella vicenda in qualità di presidente della partecipata La Marina e Leon di Caprera, società da cui sarebbero stati distratti i fondi a favore di ex amministratori. Dopo l'interrogatorio in cui con i suoi legali Franco Maldonato e Celestino Sansone la Coraggio si è dichiarata estranea ai fatti, spiegando che la maggior parte degli episodi contestati facevano riferimento a un periodo in cui non rivestiva la carica in questione, si attende ora alla decisione del GIP che potrebbe revocare la misura dell'interdizione da un anno dai pubblici uffici per la quale la Coraggio si era anche autosospesa dall'incarico di vicesindaco a Vallo. La richiesta, infatti avanzata in tal senso dai suoi legali, ha già incontrato il parere favorevole del PM Palumbo. Grazie a tutti.